Il prossimo anno scolastico, che comincerà il 15 settembre, sarà caratterizzato in provincia di Pistoia dai problemi visti in quello passato. È la fotografia scattata dalla FLC, il sindacato lavoratore della conoscenza della CGL. In particolare, ha spiegato la segretaria di Pistoia, Lucia Bagnoli, per quanto riguarda il personale ATA, ovvero amministrativi, tecnici ed ausiliari degli istituti. Non avremo i numeri sufficienti, così come è successo nell'anno scolastico che sta terminando. Su questo noi abbiamo già avvisato l'USR della Toscana e daremo battaglia perché non è possibile sfidare quotidianamente la sicurezza in particolare, perché il collaboratore scolastico serve per garantire essenzialmente la sicurezza e per gestire al meglio tutti quegli alunni portatori di handicap. Quindi se mancano loro, veramente manca l'ossatura della scuola. Per quanto riguarda invece i docenti, gli organici saranno sufficienti, la criticità riguarderà però la continuità. Circa il 40% dei posti sono infatti stimati con contratti a tempo determinato. Per cui avremo spesso il balletto del docente che arriva ma verrà sostituito oppure che manca all'inizio della scuola, quindi non sarà così semplice. In questi giorni sono state poi avviate le procedure per ammissione al ruolo del personale docente da concorso e a tempo determinato. E qui c'è un grosso problema perché mentre il personale docente che andrà a prendere il ruolo potrà scegliere con cognizione di causa sapendo dov'è che sono i posti, il personale docente aspirante soltanto agli incarichi a tempo determinato annuale dovranno scegliere praticamente al buio senza conoscere con precisione la consistenza dei posti mancanti. Grazie.